Per i professionisti le strade al giro sono chiuse e sicure. Per tutti gli altri possono essere piene di pericoli. Le regole sono poche, sempre concentrati, conoscenza del mezzo e pronti ad ogni imprevisto. Un bambino che attraversa, qualcuno distratto dal cellulare. Un pericolo improvviso è sempre dietro l'angolo. Paola, hai qualcosa da aggiungere? Una delle situazioni più difficili da gestire è il sorpasso di un ciclista. Bisogna prima di tutto moderare la velocità, poi assicurarsi di non incrociare altre macchine. Ricordatevi sempre che la velocità è la principale causa di incidenti. Un ciclista poco prudente può sbucare fuori all'improvviso. Ivan, andiamo che il giro riparte. Facciamo che arriva prima? Dai, ti porto io. Sto scherzando. Ciao! Ciao!